Ovviamente do subito la parola appunto a Tiziano Pesce per chiudere e poi dopo appunto vi darò due o tre piccole indicazioni dal punto di vista del tecnico per chi vuole appunto seguire e ritrovare quello che si è detto oggi. Tiziano grazie. Grazie, grazie Eric, grazie a tutte e tutti voi che ci ha seguito diciamo live e chi ci seguirà appunto anticipato Eric poi ce lo ricorderà le opportunità di seguire poi tutti i lavori di questa di questa mattina sui nostri canali web e social istituzionali. Faccio una battuta e guardo Ivano Maiorella il nostro responsabile nazionale comunicazione stampa che ringrazio attraverso lui ovviamente ringrazio tutta la nostra tecnostruttura l'ufficio comunicazione l'ufficio progetti per l'organizzazione di questo di questo appuntamento ma ovviamente per tutto il lavoro che c'è che c'è stato sino a pochi minuti prima dell'inizio e che ci sarà da pochi minuti dopo la conclusione. Sorridevo perché come dire non avevamo dubbio ovviamente abbiamo fatto bene a far chiudere come ultimo intervento semplicemente in ordine tecnologico al presidente Abodi all'amico Andrea perché meno male che non ha seguito tutti i lavori perché è entrato nel merito veramente di tutto. Grazie Andrea di cuore al di là non è piageria questa lo sai hai portato dei contributi per noi fondamentali io credo senza presunzioni di dire fondamentali per il nostro sistema sportivo per il sistema del terzo settore in questo particolare delicato momento storico con questa visione che cerchiamo di contribuire rispetto alla dimensione europea dello sport. Dicevi passare dalle parole dette alla pratica quotidiana da alcuni tempi noi diciamo sport per tutti non basta non basta dirlo e quindi in tutto questo c'è la chiave ecco del nostro impegno della nostra rete associativa dei nostri comitati delle nostre associazioni e società sportive. Da soli abbiamo ecco quest'altra convinzione non si riuscirebbe a traguardare nessun obiettivo e quindi oggi abbiamo voluto ecco rilanciare insieme con tanti amici con tante amiche ecco quindi a più voci il un segnale per noi forte che lo sport sociale e per tutti può diventare veramente un nuovo modo di vivere meglio insieme agli altri cercando ovviamente di dare un contributo fattivo concreto misurabile in termini di socialità di integrazione di solidarietà di salute di diritti di occupazione di economia abbiamo aperto i lavori di oggi con la presenza significativa del ministro del lavoro delle politiche sociali Andrea Orlando che ringraziamo nuovamente che è stato con noi anche fisicamente più di un'ora un quarto e ha portato credo un contributo importante e nel mezzo fra il ministro Orlando e il presidente Abodi contributi molto molto ricchi. Abbiamo parlato con il riferimento al parere grazie ancora Pietro grazie al comitato economico sociale europeo grazie a Marco Celi perché ovviamente ringraziamento a Marco Celi l'ho tenuto in fondo perché è grazie alle sue intuizioni alla sua collaborazione se siamo partiti con questo percorso che ovviamente da un lato ha tenuto e tiene attenzione anche ai temi delle risorse del riferimento delle risorse ma che da subito ha voluto rappresentare per la WISP per tutta la nostra rete associativa un percorso di formazione di apprendimento di studio e grazie anche ovviamente a a Vincenzo Manco per quello che ha fatto eh sino al marzo dello scorso anno come presidente nazionale che ha continuato a fare ovviamente con il suo ruolo di responsabile del centro studio di terzo settore per WISP nazionale nel rapporto con Pietro e con il comitato economico sociale per questo eh per questo parere. ehm un percorso io credo vado velocemente a chiudere che si inserisce a pieno titolo ecco nel nostro impegno nel nostro agire quotidiano di advogasi eh per arrivare a quello che è da tempo eh un auspicato pieno e concreto riconoscimento del valore sociale dello sport avrei fatto sicuramente in chiusura un accenno a all'attualità ulteriore di questi giorni sul tema del riconoscimento del valore dello sport all'interno della Costituzione ma anche su questo Andrea mi ha anticipato in una maniera estremamente efficace grazie ancora di questo quindi un impegno che continuiamo e continueremo ad esercitare ovviamente eh un dovere che sentiamo tutto di rappresentanza nei confronti delle nostre basi associative e nei confronti del loro sacrificio rispetto al Parlamento al Governo nazionale il Dipartimento per lo Sport il Comitato Olimpico la Società Sport e Salute l'Istituto per il Credito Sportivo il forum del terzo settore con cui abbiamo impiantato anche il percorso del parere il sistema dell'Università della ricerca e ovviamente non ultime come abbiamo sottolineato oggi le istituzioni europee la Commissione il Parlamento le direzioni e ancora una volta ricordiamo il eh il Cese ehm sempre Andrea parlava di punto di approdo di ricerca di punto di approdo e noi ecco questo l'abbiamo come dire voluto sintetizzare lo sintetizzeremo eh con la nostra campagna di adesione di tesseramento per la prossima stagione sportiva che si aprirà il prossimo primo settembre ogni anno eh studiamo diciamo uno slogan cerchiamo ecco di trovare anche slogan nuovi che portino questa caratterizzazione non è ormai semplice dopo il giro di boa che caratterizza la nostra corrente stagione eh per l'anno prossimo marcheremo la meta perché eh restiamo diciamo con una caratterizzazione sportiva ma vogliamo proprio dare il senso di questo impegno marcare la meta ovviamente partendo dalla dal nostro impegno dal nostro dovere e e soprattutto guardando ovviamente anche al di fuori della nostra associazione in questi rapporti di collaborazioni in questi rapporti di partnership che sono assolutamente fondamentali quindi grazie grazie veramente ancora a tutte e a tutti buon sport per tutti a tutte e a tutti e l'impegno della Wisp con questa logica ecco di pensare passerete la presunzione eh di fare qualcosa che è a messa a disposizione non solo della nostra rete associativa interna ma come diceva Marco Celi partendo proprio anche dal progetto sport per tutti come una buona pratica che è a disposizione ovviamente delle cittadine dei cittadini delle istituzioni in quella declinazioni in quella declinazione concreta ecco di coprogrammazione coprogettazione eh ampia diffusa eh del terzo settore sportivo di questo paese. Grazie ancora a tutte e a tutti.